A Ghiare di Berceto, in un locale storico che era il centro di un negozio alimentare, la rivendita delle sigarette dei giornali di Mirani, è stato trasformato in un bar e in parte anche in negozio. Quindi a Ghiare di Berceto una certa rinascita c'è sugli esercizi commerciali, che è sempre una cosa molto difficile nelle nostre zone, solitamente chiudono e invece con piacere del sindaco a Ghiare hanno aperto e ci sono due bar. Ci stanno ristrutturando anche altri palazzi, speriamo che Ghiare riesca ad assolvere quel compito di imbuto della Val Taro, che porti ancora a fermarsi le persone, come succedeva un tempo quando non c'era la circonvalazione. La gestisce il bar La Valentina del Nevo, che è una persona conosciuta, visto che ha sempre portato avanti le manifestazioni con la Proloco, ma soprattutto di Ghiare, e quindi è un ritorno a Ghiare che anche questo mi fa ulteriormente piacere, se hai la possibilità di trovare un lavoro nel suo paese. Saluta tutti i tuoi clienti futuri e presenti. Io spero che questa apertura sia un giovanimento per il paese, il paese sta rispondendo gradatamente, mi ha comunque un piacere, spero veniate anche voi e viva Ghiare sempre!